Sì, non ho bevuto il caffè. Hai la papà della nonna? Mi ha detto? Sì, non ho bevuto. È un bel corso. È un bel corso. È un bel corso. Mamma, dove ritorno? Sì. Mamma, le 14 sono 19. In verità che ora sono? Sì. 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 울e dalle le 건�ere. La mia stagiaile. Sei nulla dalla sua? Mentre più, magari costauş separately? Un gracias aller. In поверх~~~ Hai luce? No. Questa me giocata la ricetta e non l'abbò che pura jobberà a変mata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.